Salve a tutti, benvenuti in questo nostro nuovo video un po' improvvisato perché come i fan più accaniti sapranno è uscito l'ultimo cd di Cristina D'Avena, quello duets con tutti i vari duetti e visto che abbiamo qui con noi il fan numero uno, nonché stalker numero uno di Cristina D'Avena abbiamo deciso di fare una reaction, in realtà la reaction è più per me perché secondo me lui già le conosce tutte ne ho sentito solo una, quella con Loredana Bertè che forse... ok, quindi abbiamo deciso di fare questa reaction, dato che non sappiamo come funzionano i diritti d'autore non vogliamo incappare in problemi tecnici, noi le ascolteremo con le cuffie nel video faremo sentire le canzoni originali, quindi tipo, quali ci sono per esempio ci sarà Chismilicia, di Sailor Moon, insomma le classiche noi quindi faremo sentire nel video la canzone originale, ma noi dalle cuffie sentiamo la nuova se volete ascoltare il cd lo trovate già su Spotify, altrimenti lo potete acquistare, insomma, in giro emozionato? molto, per Cristina è sempre una grande emozione vediamo allora la prima è Pollon featuring J-AX non voglio sapere chi è il featuring, quindi adesso oscuro un attimo vai così è più spontanea allora l'inizio è orribile sto cercando di capire cosa sta dicendo, ma allora di droga? no, non mi sono focalizzato sulle parole a me J-AX piaceva negli articoli 31 da quando da quando si è messo a fare The Voice, il coach è questo questo personaggio, da io sono come il tronchi, duro fuori e buono dentro mi sta antipatici su ma poi da quando si fa con un po' ritornello è diversa effettivamente ma J-AX a parte la strofa iniziale ha fatto qualcos'altro? ancora no, c'è solo ritornello anche un sound caraibico J-AX è inutile, ha fatto la parte iniziale e basta ma ritornerà per forza per la fine di ogni canzone facciamo pollice in su e pollice in giù non la ricordavo così interminabile eccolo qua vai ok il finale è un po' così pollice in giù comunque assolutamente anche perché J-AX c'è all'inizio e c'è alla fine con due strofe non mi piace lui adesso prima mi piaceva adesso no quindi nel complesso tanto diverso no cioè un po' tutte e due nel complesso si sente quindi così è come facevi amico quasi esatto quasi amico quindi nel complesso si sente piacevole non è così ma vai non la riconosco sinceramente mi sembra sotto il sole di Riccione l'inizio no ma chi è questa? una super greve sai che non la conosco? no? ma è una vecchia anche il cartone non sotto lo vedevo aspetta ma questo è un altro cioè questa è la stacca sai cosa? è che la Ferreri ha una voce molto riconoscibile e qui non si capisce che l'è super 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 girl e nana che non ha età ricordo il cartone doveva essere una specie di astro boy femminile se non mi riporto male non sa che mi riporto male c'era questa che volava la Ferreri anonima un pochino però pallice in su o pallice in giù anche qui io resto anche io a metà perché non è la canzone che amo questa chi è? ma chi c'è qua? ancora non si è sentito c'è che è andato solo Cristina finora arriva arriva Francesca oh è la Micheli mi piace mi piace qua ci sta ci sta si se c'è diversamente dalla Ferreri qui si sente che è lei Micheli mi piace mi piace mi piace questa mi sa che ed eccomi qua pollice suissimo assolutamente questa falla Francesca mi è piaciuta qui pollice in su lei ci stava ci stava bene aspetta aspetta dove lo dire oddio non mi viene occhi di gatto ecco la che arriva aspetta 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 la prima parola che si sente di lei è più aggressiva no? ehhh arriva bene aspetta for me immagino gasata che registra mi sembra tipo quella che era da barbara d'urso a dire mi hanno armato la casa ma come farà la bertia stava sempre così incazzata? e lei ha la vita dura come tipo gli fanno gli scherzi costantemente così lei è sempre incazzata incazzata secondo me prima di registrare gli hanno fatto tipo un gavettore così lei stava durante la registrazione stava incazzata comunque non lo so se mi piace o non ma mi piace oh 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 mi piace oh 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 mi piace oh 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 mi piace aspetta aspetta chismilicia 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 è carina questa baby k ok il testo è diverso le città giapponesi deve metterle il testo è diverso dopo Roma-Bangkok questa ci sta questa ci sta che onore tra l'altro fare se non Cristina non dice sempre che è la sua preferita chismilicia beh lei è stata lì c'ha le sue cotolette panate a fare quella scena è bene mi pare che ci fosse tipo la pacotto che faceva una delle si chiama Marika Manuela quella che vai per i dottor Shea no quando andavo in spiaggia no ce lo immaginavamo perché aveva i capelli neri ma non ce li aveva e poi perché per gli anni sarebbe stato di moda ma in realtà non ce li aveva e la cosa ci aveva sorpresi perché ce li aspettavamo comunque c'è la pacotto che sarebbe la doppiatrice di Nami eccetera eccetera che faceva Marika soltanto che era doppiata da un altro abbastanza tutti doppiati anche Marra erano tutti doppiati con le voci del cartone animato e tra l'altro la pacotto doppiava un altro personaggio poi diceva spero che a me non gli abbiano dato doppio stipendio anche questa è un po' tamarrina c'è un altro pollice su sicuramente si questa ci sta e quindi siamo a due Michelin e Chismilicia ah questa è Magica Emi è molto cantante ho già capito chi c'è perché sembra proprio l'inizio della notte di Arisa è Arisa che c'è vero? probabilmente a me sembra una canzone di Natale però no è proprio Arisosa eh beh infatti che Magica Emi dovrebbe essere allegra la sta facendo un po' deprimente non sembra molto felice Arisa mentre canta sembra più profonda di quanto non sia per come la sua Magica Emi vabbè a me piace Arisa a parte quando ho visto fare la minchione no si 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 il problema è che qui secondo me sta un po' rovina cioè non ce la vedo bene qua quella questione in Natale mi ricorda a me Arisa io me la vedo mentre preparo il cenone la voce di Arisa mi piace ma qua qua non mi piace proprio qui Emi era quella lì diventava tipo una del circo cioè non ho capito cosa diventava però il suo vestito il suo vestito sembrava di una del circo che vuoi si avvererà quel che vuoi si avvererà magie, 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 magie no per me no no io dico metà Mila cioè sembra totalmente diversa da oggi sembra tipo una roba inca adesso è diventata truzza un mix di genere Mila è il suo nome e è talento va per tre battente forte forte non ancora si sente chi c'è poi diciamolo Mi e Rescino in realtà era la canzone di Mimì la cugina di Mila in tedesco in italiano non lo so ma non è che non in originale in giapponese non lo so come la sigla taccio in tedesco si è di Mimì ma è Annalisa a me Annalisa mi piace di solito un po' anonima qui non lo so no non la vedo spiccare molto in questa canzone stessa cosa della Ferreri non è valorizzata per me doveva fare un'altra canzone le canzoni che nessuno si ascolta mai tipo Cristoforo Colombo Marco Polo c'è Robin Hood? no il libro della giungla? no ma le mie preferite non ci sono ma anche le stesse no sarà per mi riuscirò tutto il sentimento è ma io qua do giù assolutamente giù no io qui do metà ma solo perché a me Annalisa piace è che qui non ha spiccato no qui no però sulla fiducia è GEM non dovevano fare il film di GEM fuori si è uscita davvero questione computer grafica non si segua però si c'è un'esuberante oh Dio oh Dio no beh dopo che ha fatto le witch direi che una sigla è idonea per lei si effettivamente ci sta solo che che minchia anche qua rompe le palle mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace io mi odio per quello che sto per dire però mi piace sta bene non lo so cioè di solito è ma non mi piace qui mi piace però qui è il contrario invece c'è di Annalisa e Judy qui invece secondo me lei ci sta bene in effetti si ci sta bene però io rimango a metà secondo me ci sta questa è bella però la rampante in GEM non ho ancora capito il suo significato rampante nei cavalli GEM no io rimango così questo è il mio voto io invece sono su Sione Puffi oh carino come inizio chi è questo? questo è Michele Bravi e non mi piace io amo i Puffi ma è specialmente out è molto di sfondo lui questa è lei questa è vero la sua voce non è male in questa canzone no mi piace non sembra molto felice a parte che ha lui da solo non lo so non mi sembra gioiosa eh mi sa anch'io no ecco qui poteva starci Michele Bravi perchè non è molto allegra sta canzone di suo ma è Elio ma è Elio ma questo mi piace mi piace adoro mi adoro no quando è iniziata avrei detto minchia che palle no invece forse l'ha l'ha allegra dai no bellissimo bellissimo un'allegra è bella questa è fatta bere questa mi piace un sacco Sione proprio secondo me Bravi e Elio andavano invertiti bravi nel siamo fatti così e Elio è tutto non mi ricorda ok mi ricorda yogi sese merende yogi ah Johnny ok sound mi piace ancora non si è non so chi sia è sotto sotto chi è? non so chi sia ma mi piace la rua un po' più idea di chi sia però mi piace però ci sta sì sì mi piace questa è la rua è riuscito tra gli amici sempre no 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 c'è proprio la voce non mi dice niente c'è per davvero chissà poi come fa questa fa proprio fallo sulla spiaggia diversa ma ci sta ci sta un po' alla waka waka immagino tipo quel fallo sulla spiaggia tutti che ballano intorno si ci sta ci sta mi piace bravi la rua vi proverò a sentire non sappiamo chi sia non sappiamo chi siate ma ci piacete ci siete piaciuti è l'immancabile lady oscar all'inizio è diverso dai noemi noemi la musica sotto è molto diversa ci sta mi piace un sacco lei tu lo sai levi oscar levi oscar levi oscar nella mischia la tua spada brilla più di una medaglia attraverso il cielo tururu levi oscar levi oscar levi oscar levi oscar levi oscar chi lo sa se un giorno può volare si anch'io facciamo la classifica ok Oli e Belgi campionizzini non riconosco chi sia però anche qui non mi sembra molto felice chi sia cantà che campioni Oli e Benji non mi piace secondo me sono Benji e fede sono due campioni lei è tutta assente tanta volontà Oli è un grande goliador magari non c'è due Oli e Benji perché Benji e fede sono Benji e fede a me la voce non sembra la loro ma invece sono loro qui sono gli eteri in massa no capite un cazzo ma il Makara non ha a chi dicono non gli e Benji Benji e fede mi puoi far fare la canzone di no non anche perchè stanno cantando con lei è un grande onore no è proprio triste la partita non è finita Oli e Benji senti la differenza fra lui e lei si si lei è il settimo cielo i no che abbiamo dato sono i puffi No, però è peggio dei busti questa Sì, sì, no Un peccato perché la sigla delle bengi è una delle più belle Oh, questa è Seraboo Anche qui che onore Cioè, nel senso, chiunque l'abbia fatta Una delle più famose Il sound sotto è molto... Misteriosa, non so Molto velata Seducente, ecco Chiara Nella sua grande vitalità Quella Chiara, stavo pensando a quella che ha fatto Gianni Ah no No, questa è l'altra Chiara Quella di... Quella di... Lei non c'è? Non credo Starebbe stata bene Quindi che c'è il Lodi, però, per favore Magari te la non c'è di 2.0 Non mi dispiace, non... Non mi fa partire Chiara, ma... È insieme Dovevano spingere di più Cioè, questa è una delle più famose, no? L'avrei fatta proprio cazzutissima e cattiva Cioè, piuttosto anonima in realtà Non ci sta male, ma... Non ci sta male, ma... Manco bene No, metà Così, cioè... Metà Sì Concordo Dovevano spingere di più Perché questa poteva diventare il tormentone Ah, ok Piccoli problemi di cuore Oh, Dio, un'altra palla Sarà adesso Dice qualcosa la voce Ma non riesco a capire Questo è Erman E effettivamente si sentiva Che lui Qui ci stava bene lui, mi piace Sì, comunque è good Però ci sta, mi piace Ci sta, sì Piccoli problemi di cuore, sì Mi rovinano una delle mie preferite Ok, One Piece Gabri Ponte È quello degli Sugar Free No, devo leggere Alessio Bernabei Perché non mi è nuovo sto nome? Forse è uno di Amici Forse è andato a Sanremo Ah, era quello che era Stavo in un gruppo Poi sei sciolto dal gruppo E poi è andato come sonnista Ma non ho idea di chi sia Che facciabbia Il nome non mi è nuovo Perché la voce Mi dice qualcosa Però Non mi vengono a mettere canzoni sue Comunque, sì, dai Forlice su Ma che non so chi sia Che facciabbia Bernabei Ma va bene Ci sta, sì, ci sta Brava Cristina Mi regali sempre delle grandi emozioni Che ne pensi di questo CD? Ovviamente Cristina sa sempre È sempre la numero uno È la top Infatti non per questo Questo CD è già il numero uno In tutte le classifiche E quindi è per forza Anche se le canzoni Alcuni Ah, questo non ci serve più Ah, infatti fa male Anche se alcuni duetti Erano pessimi Ma Ma ovviamente Pollice su per Cristina Perché è sempre la numero uno In tutto E E boh Cristina è Cristina Adesso la storia Inizierai Ovviamente Io sono anche Faccio anche parte Del fan club Scusate se foco Va bene Allora adesso Facciamo un attimo Mente locale E poi facciamo una classifica Dopo un accurato dibattito Abbiamo fatto una classifica Insomma in base Alle nostri gusti Ci tenevo a dire Forse avremmo dovuto dire All'inizio del video Che ovviamente Noi non siamo critici musicali E quindi tutto quello Che abbiamo detto Va puramente a gusto personale Quindi non abbiamo Nessuna pretesa Di dire Che ne capiamo qualcosa E dal punto di vista tecnico Se c'è qualcosa che non va È puramente Lo diciamo Da ascoltatori E soprattutto da fan Quindi E poi gusto personale Numero 16 Vuoi avere tu l'onore Di iniziare È troppo deplorevole Viva e tu Ah qui non abbiamo avuto Grossi dubbi E infatti Ci abbiamo piazzato Si poteva capire Immagino Ci abbiamo piazzato Oli e Benji Con il featuring Dei nostri carissimi Benji e Fede Non si poteva sentire Non ci è molto piaciuta No La canzone Oli e Benji È bella Ma non con Benji e Fede È stata un po' profanata Ci siamo sentiti Proprio violati Nell'intimo Da questo duetto Al numero 15 Purtroppo per lui E purtroppo per la canzone I Puffi con Michele Bravi Michele Bravi è bravo Ma non nei Puffi Ecco I Puffi è una bella canzone Ma non con Michele Bravi Un po' più È stata una combinazione Un po' più vitale Un po' più vitale Michele Numero 14 Anche qui Almeno per me è stata abbastanza facile Ci abbiamo piazzato Pollon Con il featuring DJ Axe Dopo il ritornello Pollon è già una canzone corta E qui c'era un tantissimo pezzo di ritornello Rispetto alle strofe Quindi Numero 13 Stessa motivazione Più o meno di Michele Bravi La ripetiamo Ad Arisa Con Magica Emi Arisa un po' più vitale Per favore Magica Emi è molto allegra E tu sembravi un po' costretta Francamente A fasta questo duetto Numero 12 Nana Supergirl Con Giusy Ferreri In quanto Insomma Giusy era un po' poco riconoscibile Insomma Non ho trovato un grande Riadattamento della canzone Rispetto ad alcune Altre canzoni Numero 11 Più o meno per lo stesso motivo A me lei Piace molto Ma qui era proprio poco riconoscibile Ci abbiamo messo Miele Shiro Con il featuring di Anna Elisa Tu hai dato rielo Quindi è una figa Numero 10 Purtroppo Sailor Moon Con Chiara No Beh Dovevano proprio farla Chiara non è molto vitale Quindi questa canzone Magari poteva brillare un po' di più Ma Chiara Dovevano farla Proprio più potente Cioè Su Sailor Moon Si poteva puntare tanto Numero 9 Per la nostra incazzatissima Loredana Bertè E la sua occhione Gatto Numero 8 Strano ma vero Emma con Jam E non è stata male A me è piaciuta A me è piaciuta Questo ottavo posto È stato dettato Soprattutto da me Perché altrimenti Mi sembra che la bestima E sta più in basso A me è piaciuta invece Numero 7 Una sorpresa Perché la canzone È una palla assurda Invece Ermal Metal L'ha fatta la figa Ci stava benissimo E c'è infatti Piccoli problemi Di cuore Mi aspettavo Granchè Da questa canzone Invece Mi ha sorpreso Bella Ci stava bene Ci stava bene Ci diamo sulla nostra classifica Numero 6 Abbiamo amato One Piece Con Bernabé Che non so che Continuano a sapere Che faccia abbia Però Stavano bene Erano combinate bene Le voci Bello Sì E poi vabbè One Piece One Piece Quindi ci stava Numero 5 Da questo vuoi dirlo tu Numero 5 A Begni Leghi Oscar Con Noemi Bella La canzone è bella di sua Ci stavano bene Noemi stava bene In questo accocchiamento Noemi stupenda In questa canzone Numero Che numero Si arriva Numero 4 Numero 4 Sorpresa Personalmente Perché c'è Chi smilicia Con Baby K Sorpresa non tanto Per Baby K Quanto per chi smilicia Perché io l'ho sempre Detestata Da piccolo Quanto mi sta la propina Una palla Sto cartone Non quanto Giorgi E Candy Candy Però Mamma mia La resistenza Ma è problema E invece Al numero 3 E' quasi magia Johnny Con questi La Rua O questo La Rua Non so se sono un gruppo Un ringolo Non so Non so chi siano Però Bella Molto da spiaggia Da Molto Waka 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 Wow Bravi La Rua Chi sarà il numero 1 Sono rimaste in 2 Si capiva Penso Da Le reazioni Si sarà visto Quelle che ci ha colpito Di più Comunque Numero 2 Ci mettiamo la nostra Fighissima Francesca Michelin E Insomma Questa cover Di Creamy Esatto Brava Francesca Noi crediamo Francesca E al numero 1 Il fantastico Elio Con Siamo fatti così Bellissime interpretazioni Non gli avremmo dato una lira Abbiamo visto il titolo Io non gli avrei dato una lira E' stato bravo Ho messo della sua leonia Bella Bravo Bravo Elio Bravo Cristina Fantastico CD Consigliamo a tutti di sentirlo Vederlo Su Spotify c'è già Se volete comprare La versione autografata Non si trova più su Amazon Non dovevate preordinarla Secoli prima Arrivare giovedì Mi arriva meglio Eh Voglio risentirmi E guardarmi Il fogli di libertino Che c'è dentro E quindi Ascoltate il CD Se avete una vostra lista Una vostra classifica Se avete già sentito il CD Scrivetecela qua sotto E Per qualsiasi commento o parere Scrivete pure E niente Noi ci vediamo al prossimo video Non so quando Non so come Alla prossima Ciao